oggi parliamo del sigillante quasi tutti i giorni ci arrivano delle domande sul come sigillare una superficie piuttosto che un altro le differenze tra velvet super e plus abbiamo grossi e super grossi plus esso con finis gel velvet noi possiamo distinguere i nostri sigillante lucido matto con dispersione sì o meno senza dispersione elastico sì o meno denso sì o meno andiamo a vedere le caratteristiche di questi sigillante velvet è un sigillante velluto significa un effetto matte e già lo mettiamo da parte super e plus sono tutti e due lucidi e qui abbiamo capito la prima classifica adesso sono con dispersione o meno questi sigillante sono tutti senza dispersione elastico o meno a livello di elasticità socco il sistema di semi permanenti indica già in partenza che è un prodotto molto elastico vuol dire che lo possiamo benissimo applicare su qualsiasi semi permanente ma va benissimo anche per una struttura in gel cioè non possiamo dire dei glossi glossi sono dei sigillanti per il gel però avendo un nuovissimo prodotto come il nostro glossy super è un prodotto molto elastico questo gli permette ad essere applicato sia su una superficie in gel in acrilico in qualsiasi struttura rigida e sia su un semi permanente leggermente più corposo come potrebbe essere ad esempio la nostra base socco base 2 oppure il tutto il sistema cauccio il glossy plus è un sigillante che va benissimo per tutta la struttura più rigida cioè significa moltissimo cauccio quando si fanno certe correzioni ad esempio oppure una struttura in gel una struttura in acrilico adesso vediamo la densità la densità di questi prodotti socco finish del vet e abbastanza liquido se lo vedete la goccina si stacca molto facilmente glossi super guardate come si stacca subito subitissimo è molto molto liquido glossi plus guardate come non si stacca ciò significa che è abbastanza denso in questo momento ognuno di voi ha già scelto nella sua testa un prodotto migliore io vi dico che non c'è un prodotto migliore ogni prodotto serve per determinate situazioni per capire quando utilizzare quale prodotto andiamo a capire un attimino quale sono le caratteristiche di una nostra superficie non classifichiamo del colore perché alcuni aspetti possono dipendere non tanto dal colore ma dal modo in cui è stata limata la superficie il modo in cui è stato applicato il colore per questo guardate il video che ci sarà in seguito sull'applicazione del prodotto e allora la nostra superficie noi la possiamo classificare con dispersione sì o meno se di sotto abbiamo una struttura flessibile sì o meno e se è omogenea sì o meno se abbiamo una superficie con l'applicazione del gel che ha dispersione poi siamo benissimo continuare a sigillare con uno di questi due più terzo prodotto che non hanno dispersione vanno benissimo se il nostro prodotto di sotto il nostro gel color non ha dispersione parliamo di un ad esempio un painting non avendo la dispersione ci compromette la durata di un gloss che anche questo non ha dispersione perché noi abbiamo una superficie assolutamente liscia senza dispersione un prodotto senza dispersione la loro adesione non sarà così alta come in caso del prodotto con dispersione perciò in questo caso io preferirei sigillare con un finish gel con un top di caoutchouccio e un style gel ad esempio un finish ragazzi sol sta per il codice che trovate ad esempio qua c'è gss la stessa cosa nella linea di semi permanente trovate sol perché molto spesso noi li chiamiamo sol che sono in realtà la linea di semi permanente questi sono i prodotti che io vi consiglio per la superficie che non ha dispersione nel caso di struttura flessibile o meno flessibile significa semi permanente una struttura che flette e allora possiamo andare benissimo con un qualsiasi sigillante elastico perché abbiamo di sotto una superficie elastica un una struttura flessibile se io su una struttura flessibile tipo un semi permanente mettessi un gloss che non è flessibile cosa succede potrebbe leggermente iniziare a spaccarsi in alcune zone per questo sulla superficie flessibile va benissimo un prodotto sigillante flessibile sulla superficie omogenea possiamo ovviamente un sigillare con qualsiasi densità di prodotto sulla superficie non omogenea se la nostra superficie così nei peggiori di casa è così quando è stato applicato male quando si raggrinzato il colore a volte capita che la cliente non resta il tempo dovuto e toglie la mano dalla lampada ma anche se sono dieci secondi prima a volte capita che il prodotto in superficie inizia raggrinzarsi in quel caso abbiamo bisogno di livellare tutti questi dislivelli se questa è la superficie della nostra unghetta mettendole un prodotto molto liquido tutti questi dislivelli si accentuano nel momento in cui io prendo un prodotto più denso tutti questi dislivelli o diventano appena appena quasi impercettibili oppure riusciamo a livellare fino a coprire assolutamente tutto vediamo in pratica prendo la mia superficie molto 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 non omogenea guardate che non ha assolutamente nessuna parte liscia e tutto mi sono impegnata a passarle malissimo il colore ho preso un prodotto che non non va utilizzato come monocolore perciò mi ha dato guardate questi dislivelli questo capita a volte in seguito a una cattiva limatura in seguito a una sbagliata applicazione del prodotto in seguito a un prodotto che non è adatto ad essere passato come monocolore come nel mio caso abbiamo questa situazione come rimediare ovviamente prima andiamo a pensare la mia superficie e gel o semi permanente e gel pensiamo che qua ho una struttura in gel vuol dire che qualsiasi sigillante sia del sistema di semi permanente sia del sistema di gel va bene è una superficie rigida una superficie con un gel che ha dispersione vedete si sente che è appiccicosa vuol dire che sopra potrei andare sia con un sigillante che ha dispersione sia un sigillante che non ha dispersione però vedo anche che è una superficie assolutamente non omogenea e allora in questo caso io scelgo un prodotto che sia molto denso in modo da livellare tutti i dislivelli in questo caso il mio prodotto molto denso il glossy plus perché già vi avevo fatto vedere prima guardate come la sua goccina non si stacca quasi vado con l'applicazione di questo prodotto e guardate che cosa succede nella parte dove l'ho applicato sembra tutto assolutamente perfetto ed omogenea guardate è scoinvolgente come cambia la superficie perciò per tantissimi di voi questo è un prodotto il nuovo perciò questo per tantissimi di voi questo è un prodotto indispensabile perché guardate il suo punto luce come viene bello assolutamente omogenea possiamo anche appena girare la mano della nostra cliente al contrario e guardate come la mia superficie è assolutamente liscia ed omogenea non si vedono nessun tipo di dislivelli avevo una struttura così guardate la mia struttura molto molto non omogenea e adesso una volta sigillato ecco la mia superficie tutto glossi con il bolino plus nel momento in cui su una superficie del genere facendo sempre ritornando al nostro analisi a dispersione non è flessibile però non è omogenea ma io comunque decido di sigillare con un prodotto che è meno indicato guardate che più liquido nel momento che lo applico sì che mi dà lucentezza mi dà una bella superficie però guardate che i miei dislivelli internamente vedete come si intravedono qualche bollicina esce anche però nello stesso momento eccoli in contraluce io sento lì noto i dislivelli anche a livello di punto luce da qualche parte non è proprio omogeneo anche se cerco di girarlo al contrario lo stesso da qualche parte ci sarà qualche piccola imperfezione perché perché è un prodotto bellissimo per le superficie lisce omogenee limate bene e con il prodotto applicato bene non dà assolutamente spessore quando scegliere glossi super assolutamente in tutte le situazioni quando avete una bellissima struttura quando avete limato bene avete applicato bene il prodotto e ultra lucido dall effetto anche quasi come se fosse una superficie bagnata da assolutamente una lucentezza che dura moltissimo nel tempo questo l'abbiamo notato con dei nostri clienti che ritornano con le unghie ancora lucide e allo stesso momento non crea assolutamente spessore ciò ritornando al discorso superficie non omogenea non riuscirebbe a togliere questi dislivelli ma nel momento in cui io ho una bellissima struttura è il prodotto favoloso e ritornando all'ultimo prodotto di cui volevo parlare oggi che il socco del vet va benissimo sia per il gel si è per il semi permanente è un prodotto che da un effetto matt molto molto matt ripeto molto molto perché è veramente un effetto camoscio quasi nella sua applicazione è abbastanza liquido ma nonostante questo in automatico è riuscito a livellare tanti di quei dislivelli che avevo creato prima anche questo potrei girarlo leggermente per darle il tempo di omogeneizzare un po tutta la superficie guardate come il punto luce abbastanza omogeneo e dopo anche pochissimi secondi in lampada diventa assolutamente matta ad esempio qua c'ho un'altra tip guardate il suo effetto molto molto bello opaco camoscio vi faccio vedere anche dopo pochissimi secondi guardate come iniziate già a diventare matta